Tariffe invariate ad eccezione di quella sui rifiuti che crescerà del 2%, stanziamenti per il welfare riconfermati e più investimenti nella riqualificazione urbana. È questo in estrema sintesi il succo del bilancio di previsione 2020 che verrà discusso nel Consiglio Comunale di Broni il prossimo 23 dicembre. Ai servizi sociali Broni vorrebbe destinare anche per l'anno prossimo circa il 20% del bilancio complessivo. Nel 2020 ormai alle porte dovrebbero inoltre aumentare le risorse destinate alle manutenzioni della città rispettivamente di circa il 15% per le manutenzioni ordinarie e del 25% per le asfaltature delle strade. Riconfermiamo tutti gli stanziamenti degli anni precedenti sul sociale e su tutti gli altri capitoli. Anche per quanto riguarda le tariffe locali non abbiamo previsto nessun aumento nonostante la legge e ce lo permetterebbe ci sarà solo un leggero aumento della tassa rifiuti. A proposito della tariffa sui rifiuti, la cosiddetta Tari, l'aumento del 2% che il Comune prevede di applicare per l'anno prossimo sarebbe dovuto agli investimenti necessari a far partire il nuovo sistema della raccolta differenziata porta a porta. Le oscillazioni della tariffa negli anni successivi, ha spiegato il primo cittadino, dipenderanno poi dai risultati della raccolta stessa nella vicina stradella, per esempio dove lo stesso sistema era stato avviato nella primavera 2018, a fronte di un aumento iniziale si sono registrate diminuzioni del 3-4% già dall'anno successivo. È derivato appunto dall'avvio del nuovo servizio di raccolta rifiuti con il modello porta a porta che ha previsto un investimento iniziale, però parliamo comunque di un aumento del 2% e auspichiamo che nel medio periodo, quando verrà fatta un'adeguata raccolta differenziata, quindi il rifiuto, il costo del rifiuto diminuirà e auspichiamo che appunto di conseguenza diminuisca anche la tassa rifiuti. Abbiamo stanziato anche un fondo di 20.000 euro per chi non riesce a far fronte al pagamento della Tari e anche per quest'anno abbiamo previsto degli incentivi per chi vuole aprire delle nuove attività commerciali in città esentando appunto chi vuole farlo dal pagamento della Tari e facendo uno sconto del 50% per chi vuole subentrare a delle attività già avviate.